Un incendio doloso divampato la sera dello scorso 29 dicembre ha pesantemente danneggiato gli interni del centro sociale di Via Alfieri al piano terra dei complessi edilizi finanziati con i fondi del contratto di quartiere. Una struttura pubblica riservata ai residenti del quartiere popolare al centro dell'intervento di riqualificazione urbana non ancora aperta e vittima della complessa burocrazia che ne ha condizionato il futuro. Il centro sociale in seguito ai danni provocati dal rogo è facilmente accessibile e i varchi privi di qualsiasi protezione rischiano di compromettere la sicurezza della struttura pubblica. L'assessore allevoli pubblici Franco Di Rao, ottemperando ad una richiesta del sindaco Angelo Danna che all'indomani del rogo aveva auspicato interventi di messa in sicurezza, annuncia adesso l'imminente copertura dei varchi attraverso la collocazione di blocchi in cemento armato. Si tratta, afferma, di un intervento che sarà eseguito a breve. Abbiamo già effettuato un sopralluogo ed eseguito anche le misurazioni. I blocchi consentiranno di inibire gli accessi ed evitare anche che si possano arrecare nuovi danni al centro sociale. Frattanto rimane ancora incerto il futuro del plesso che, come preannunciato dallo stesso sindaco Danna, dovrà essere affidato ad un comitato di residenti e supportato anche da associazioni di volontariato.